Tribù rossa nera, amiche amici del Marietto, buon 2 di dicembre a tutte e a tutti e bentornate, bentornate a un nuovo appuntamento col vostro Marietto milanista. Oggi, mercoledì, appunto, 2 di dicembre, alle ore 18, il vostro Marietto, alias Mario Di Palma, il mio nome, sarò ospite sul canale di Ground Zero Channel. Alle ore 18, vi lascerò il link in basso in descrizione e si parlerà della situazione qui in Spagna. Infatti, già ero stato intervistato tempo fa da questo bravissimo blogger che è Francesco Tessarolo e oggi ritornerò però in un canale più grande che ha creato ormai lui insieme a un altro blogger e quindi sarò lieto anche di essere presente come ospite per parlare, appunto, a 360 gradi della situazione veramente drammatica che più che il problema del virus, qua c'è un problema economico che ha messo in ginocchio il paese intero e quindi ne parleremo oggi qui sul mio canale. Quindi vi aspetto, vi lascio il link in basso in descrizione. Detto questo, tra tutti i vari link, come sempre c'è il Marietto Milanista Facebook, il gruppo cresce grandi e vi aspetto ancora di più. Telegram, anche lì c'ho il mio gruppo, mi raccomando anche lì entrate perché lì ci sono tutti quei video, quelle cose che non posso postare anche in YouTube. E dopo di che, un ringraziamento speciale chiaramente a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, benvenuti e benvenute a questa tribù rossonera stupenda. Così come grazie a tutti più di 5.000 iscritti che mi seguono da tempo, siete veramente dei fenomeni. Grazie! Detto questo, iniziamo subito con le notizie di oggi. Oggi abbiamo veramente notizie incredibili. Iniziamo subito dal Gigio Donnarumma. A parte il discorso che sappiamo, che addirittura sotto l'albero di Natale potremmo trovare anche il rinnovo fino al 2024 di Gigione, tra l'altro lo scorso 30 novembre è stato eletto il nuovo presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno, che anche lui è stato un ex giocatore professionista, che ha preso il posto di Damiano Tommasi, che ha dato le sue dimissioni nel mese di giugno, e oltre al presidente sono stati anche eletti membri del consiglio direttivo dell'Associazione, che entrerà in carica dal 2020 appunto adesso al 2024, casualmente quando anche il nostro Gigione dovrebbe fare questo allungamento di contratto. Quindi che è successo con Gigio? Che praticamente il portierone rosso-nero entra di diritto nel consiglio appunto dei calciatori di questa associazione. A parte lui c'è anche Bonucci, Acerbi, Parolo e Ranocchia. Il consiglio tra l'altro ha poi nominato Sara Gama, la giocatrice e calciatrice della Juventus femminile, che è la prima donna a ricoprire la carica di vice. Casualmente, adesso chiaramente devo fare un po' l'avvocato del diavolo come milanista, una giocatrice della Juventus. Perché non avrebbero potuto, io che so, farlo fare a una nostra calciatrice per esempio, la nostra, per esempio, Giacinti, la nostra grande centravanti del Milan. Vabbè, lasciamolo lì. Vediamo come si comporterà anche come consigliere il nostro Gigio, magari come buon portiere può essere anche un buon consigliere. Quindi gli auguriamo tutte le buone fortune del mondo, del mondo, alla spagnola, anche a lui. L'altra notizia interessante, che questa è uscita fuori da Billy Billy, quando ti ripigli, costa curta, praticamente ha raccontato un aneddoto dopo la partita che è successa ieri tra Borussia Mönchengladbach e Inter, dove l'Inter si è imposta ben per loro per 3 a 2 in casa dei teutonici, fuori dall'hotel alle 4 di notte ci sono stati fuochi d'artificio per lasciare svegli i giocatori dell'Inter. Allora, costa curta ha raccontato di un episodio molto simpatico che era successo alla vigilia di Sporting Guion Milan nel 1987, dove praticamente Gullit e Van Basten hanno trovato un rimedio abbastanza artigiano per ovviare al caos che c'era fuori dall'hotel per tenere sveglia la squadra rossonera. Allora, quali sono le testuali parole di Billy Costa Curta? Durante la notte i tifosi vennero fuori dall'albergo per non farci dormire. Gullit e Van Basten spostarono dei materassi contro le finestre e non sentimmo i rumori. Il problema è che non avevamo alcuni materassi e quindi alla fine non dormimmo comunque. Quindi per dire, ci sono anche aneddoti, ci sono storie molto simpatiche che succedono per fortuna nel mondo del calcio, meno male che anche ci possiamo fare una risata in questo momento dove vogliono tapparci anche la risata, quindi far vedere la parte più bella che quando tu vedi un uomo, una donna, una donna che sorride, ragazzi, a me mi fa sbavare quando sorride con quegli occhi. E adesso, vedete, quello che stanno facendo è totalmente toglierci ogni cosa bella. Non possiamo andare allo stadio, non possiamo andare ai teatri, cinema, manifestazioni di felicità, concerti, niente. Fatevi una domanda del perché, se no non ho ragione io con le mie idee negazioniste, complottiste. Visto che dovranno essere 15 giorni, portiamo un anno così e sarà ancora lunga se la gente non si sveglia. Detto questo, Zlatan Ibrahimovic, quindi passiamo a un grande, un grande che ormai ho speso tutti i possibili aggettivi in questi tempi perché è un giocatore fuori dal normale e addirittura, come vi ho detto ieri, vuole tornare già in campo subito e, ragazzi, voi non ci potete credere. Secondo quello che è stato scritto oggi dalla Gazzetta dello Sport, addirittura c'è una piccola ma possibilità che già Zlatan sia presente domenica contro la Sampdoria. E questo è, diciamo, l'esempio. L'esempio di un giocatore che non è normale. Parliamoci di alco, questo è un alieno. Gli succede qualcosa a 39 anni, ci sono stati giocatori che a 30-31 anni stanno fuori mesi, mesi, mesi. Questo è un dolore, pum, e si rimette subito in pista. Quindi vuol dire che innanzitutto il potere lui ce l'ha qua. Il potere ce l'ha nella mente. Perché attraverso la mente sa gestire anche tutto il resto del corpo. Quindi complimenti al nostro Zlatan. Veramente speriamo di vederlo già in campo con la Doria. Chiaramente in condizioni che possa giocare. Poi per quanto riguarda il discorso mercato, attenzione perché prima di arrivare alla bomba finale, come sempre, il Milan non molla un pupillo di padre Pioli. A me vi dico onestamente, Kabak non mi fa né mu né ma. Cioè non mi fa scaldare il cuore. Altri giocatori che sono stati accostati al Milan, vedete Fofana, poi se l'è preso per 30 milioni in Leicester. Adesso si parlava anche appunto del difensore, ieri anche del Marsiglia insieme a Tovan. Cioè si stanno facendo tanti, tanti, tanti nomi. Però una cosa è certa. In quest'estate abbiamo parlato a più riprese che Pioli avrebbe voluto proprio un giocatore che ha allenato lì al centro della difesa, Nicola Milenkovic. Quindi sembra che il centrale serbo diventi quasi un obiettivo reale, un obiettivo e adesso dobbiamo prenderla un po' alla larga questo discorso perché siamo comunque al 2 di dicembre, manca ancora un mese a inizio del calciomercato, però è anche sì vero che le società già si stanno muovendo per sferrare dei colpi. E Nicola Milenkovic sinceramente è un profilo che è vero che costa parecchio, però il Milan tempo fa vi ho detto che aveva in mente una proposta tipo prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Il Milan se torna in Champions League come tutti ci auguriamo e visto che la strada e il cammino è tracciato, sta andando in questa direzione, chiaramente avrà bisogno di giocatori di una certa qualità, non solo la quantità e avere lì 4.000 panchinari e poi di questi 4.999 sono dei brocchi, ci vuole qualità. Nicola Milenkovic ha dimostrato per giocare in una squadra come la Fiorentina che non gioca ad alti livelli che è un giocatore veramente possente, ha dimostrato anche che ha il fiuto del gol quando sale di testa e io sinceramente se devo fare un investimento su un giocatore che già conosce la Serie A in questo momento invece di andare per scommesse sicuramente Milenkovic sarebbe uno che metterei al primo posto della lista a parte come già sapete Ayer di cui a me piace tanto perché è in prospettiva però se arrivasse Milenkovic sono molto e sarei molto molto contento ma passiamo a questo asse caldissimo Milano-Madrid il Milan sappiamo benissimo che da molto tempo anche poi con l'arrivo in società di Paolo Maldini ha instaurato dei rapporti eccezionali con la dirigenza del Real tant'è vero che a parte il discorso Teo Hernández che è veramente stato un colpo grosso per noi Brahim Diaz diventa in questo momento un oggetto di culto per delle transazioni che ci possono essere su questo asse la sconfitta di ieri in casa dello Shattar per 2-0 per parte del Real Madrid non potete voi neanche immaginare qui in Spagna il caos che ha mosso i giornali già vogliono una testa di Zidane e di mezza squadra in tutto questo casino chiaramente devono sfoltire la rosa dunque anche lo stesso Zidane che tra l'altro il Real Madrid sarebbe la prima volta che non passerebbe un turno eliminatorio attenzione una fase a gironi addirittura Zidane può rischiare la testa e rischiare il posto ma ci sono tanti altri giocatori innanzitutto ci sono esuberi come Lucas Vazquez che è una pista realmente concreta se ne parla già da diversi giorni e tra l'altro va in scadenza proprio a giugno 2021 tra l'altro il Milan vuole completare diciamo l'opera con Brahim Diaz perché sembra deciso ad acquistarlo a titolo definitivo ci vorranno più o meno 25 milioni però Brahim Diaz ragazzi io me lo tengo e lo voglio tenere e sembra che Maldini lo voglia già prendere a gennaio a titolo definitivo per chiudere subito il cerchio ma attenzione perché il giocatore che adesso vi nomino è un giocatore che io quando se ne parlava di terzino destro quando Calabria ancora non andava bene Conti che tra l'altro penso verrà ceduto a questo punto c'era questo giocatore a parte Emerson Royale che tutti sapete che è di proprietà del Barcellona che a me sempre mi ha stuzzicato molto ebbene sì stiamo parlando di Odrio Zola Odrio Zola è fresco vincitore della Champions League con il Bayern di Monaco è un terzino destro incredibile che però in questo momento sta trovando difficoltà nel rientro al Real Madrid il Milan visto che sembra che Castiglieco possa essere venduto se non a gennaio comunque a fine anno per lo meno per un 15 milioni e già vi raccontavo che tanto il Siviglia che lo stesso Valencia e addirittura si parla qua di un Villareal la sua ex squadra che potrebbe essere interessata a riprenderselo c'è il discorso di Odrio Zola che il Milan vorrebbe portare avanti sarebbe un colpo grosso perché avere Odrio Zola a destra e Teo Hernández a sinistra ragazzi abbiamo non solo due frecce ma abbiamo davvero due fenomeni in questo momento per i prossimi dieci anni per lo meno io me lo auguro con tutto il cuore Odrio Zola è un giocatore che mi piace tantissimo sa giocare tanto in fase di copertura che in fase proprio d'attacco e con Sele Mekers a destra sarebbe bellissimo vederli insieme perché ci sarebbe uno scambio costante faremo veramente venire il mal di testa a moltissime squadre ancora di più di quello che lo stiamo facendo adesso quindi questo realmente è un obiettivo insieme a Emerson Royale così in mezzo c'era gente che mi scriveva diceva si Sergio Ramos Sergio Ramos finirà la sua carriera al Real Madrid questo già ve lo dico in anticipo e a sto punto un Milenkovic in mezzo Odrio Zola a destra un vice Ibra che sembra che il Milan appunto stia bussando ancora alla porta del Real Madrid tanto per Jovic che Mariano Diaz ragazzi qua si sta prospettando davvero un Milan stellare da qui a poco sono emozionatissimo sono davvero emozionato perché era tanti anni era tanti anni davvero che stavamo aspettando questo momento e si può darsi che anche il mio canale del Marietto Milanista ha portato fortuna dopo adesso fra un po' il 16 dicembre quando sarà il compleanno del Milan sarà un anno che esisterà il Marietto Milanista e dalle macerie del 5 a 0 dell'Atalanta che è stato proprio il mio esordio da lì c'è stato solo il bello in tutto il 2020 quindi per questo vi invito a iscrivervi chiaramente al mio canale con campanella inattiva like di sostegno e condivisione nei vostri social i vostri commenti in basso sono più che preziosi ricordatevi che io li leggo tutti quindi ci sono alcuni che metto cuoricino alcuni che magari non mi piacciono non lo metto perché io sono trasparente e onesto con me qua troverete sempre questo e poi ad alcuni chiaramente rispondo in base anche a ci sono persone che mi seguono da tantissimo tempo e sicuramente il rispetto per loro è incredibile soprattutto gente come Giovanni Bruno come Alessia Sarrizzo Angelo Il Ballerino ci sono veramente persone che mi seguono sin dall'inizio senza dimenticarmi di Massimo Peri che realmente si sta creando o Fabio Lisandri persone che realmente in questo momento fanno parte fortemente di questa comunità così come Chiara Savio così come Cristina io non mi dimentico nessuno di voi ragazzi siete tantissimi però sappiate che vi ho tutti qua dentro nel mio cuore e quindi dal vostro marietto milanista proprio con questo cuore rosso nero che è passionale forza Milan ovunque e comunque e ci vediamo oggi alle 6 in Ground Zero Channel con il blogger Francesco Tessarolo nel suo canale il link ve li lascio qui in basso in descrizione buona giornata e ci vediamo alla prossima ciao